Musica Si è insediato con l'Assemblea plenaria nella Fiera del Levante il Collegio degli Esperti del Presidente della Regione Puglia. Si tratta di una struttura rinnovata dopo il primo mandato, costituita dal Presidente, dal Capo di Gabinetto e da personalità che hanno maturato esperienza su temi di rilevanza strategica per il buono funzionamento della macchina regionale, profili professionali adeguati a garantire nelle scelte di indirizzo del Presidente un supporto specifico, in base alle singole esperienze lavorative. L'incarico ha durata di 5 anni ed è a titolo gratuito. Ruolo di supporto è svolto dall'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. Gli esperti sono 45 da tutta la Puglia. Tra essi i foggiani Lorenzo Giovanni Arbore, Pasquale Cataneo, Patrizia Lusi e il lucerino Mario Morlacco. E' in fase avanzata la trebbiatura del grano duro in Sicilia e in Puglia ed emerge che, al contrario delle previsioni iniziali, il raccolto è in diminuzione. Lo pone in evidenza Confagricoltura che sta monitorando le operazioni di mietitura in atto sul territorio. Nel Foggiano, area particolarmente evocata alla produzione, a causa della gelata di aprile e della siccità di maggio, si registra un calo produttivo ancora più marcato. Però la qualità sembra ottima, con peso specifico mediamente superiore a 80, mentre le proteine medie si attestano intorno a 13-14%. Che la qualità ci sia è testimoniato anche dal fatto che l'istino prezzi della borsa merci di Foggia, dopo la fase di stallo per la trebbiatura, registra per il prodotto fino con contenuto proteico minimo del 12% quotazioni di 300 euro a tonnellata. Stiamo lavorando per l'affermazione della filiera grano-pasta al 100% made in Italy a concluso Confagricoltura. Il grano che si sta raccogliendo è di ottima qualità, d'altronde c'è una sempre maggiore attenzione e sensibilità da parte dei consumatori verso la pasta totalmente italiana. 664,49 euro a fronte di una media nazionale annua di 452,19 euro. In Capitanata il premio medio RC Auto è del 46,95% in più rispetto ai dati nazionali. Assicurare auto a Foggia e in Capitanata, nonostante le contrazioni dovute al lockdown e alle restrizioni anti-Covid, continua ad essere molto costoso. A dichiararlo Enzo Pizzolo, presidente ad hoc Foggia, a commento del monitoraggio realizzato dal personale del servizio civile dell'Associazione dei consumatori della Will Foggia. Tra le città con i costi più elevati c'è Rignola, San Marco e Lamis, Manfredonia, Orta Nuova. Il capoluogo si colloca a metà classifica, 632 euro, il 40% in più rispetto alla media nazionale. Si tratta di dati ancora abnormi, ci attiveremo in ogni sede per comprendere da che cosa dipendano queste anomalie e in quale maniera sia possibile abbassare le medie provinciali per uniformarci al trend nazionale, conclude il presidente ad hoc Foggia. Sindaco, in questi giorni c'è stato un po' di chiacchiericcio del suo paese, abbiamo chiuso, poi abbiamo riaperto. Qual è stata poi la ragione che ha spinto non solo alla chiusura ma alla riapertura? C'è stata una richiesta maggiore? Sì, allora diciamo che è stata fatta una riflessione rapida sull'argomento. La mia è stata un'ordinanza anche provocatoria perché volevo stimolare l'acquisizione di maggiore responsabilità con ciò che ho anche specificato sia negli esercenti, quindi nei titolari dei locali, ma anche nei giovani che frequentano questi locali e che sovente nelle ore notturne creano disturbo a chi poi ha bisogno e ha diritto ad un riposo per affrontare la giornata lavorativa. Dopo questa riflessione, dopo anche un confronto, un dibattito rapido, ho ritenuto opportuno revocare l'ordinanza come segno anche di dar fiducia ad un nuovo modo di comportarsi e ad un nuovo senso civico che si potrebbe sviluppare, mi auguro. Diversamente sarò costretto a riprendere dei provvedimenti perché l'obiettivo di un sindaco è quello di tutelare gli interessi di tutti e il divertimento che ci deve essere, soprattutto adesso in cui si tende a riuscire da un periodo brutto che abbiamo attraversato tutti, non deve cozzare poi con il diritto della quede pubblica che ci deve essere in altrettanta maniera. Quindi le due cose si possono tenere insieme con senso di responsabilità e soprattutto con grande senso civico. Grazie per la visione!